In ogni workshop trasformazionale che facilito c'è sempre qualcuno che non riesce a vedere come si può avere una scelta quando ci si sente vittima degli eventi. Non è facile in effetti avere esperienza di eventi molto duri, devastanti o violenti e non sentirsi vittima. Com'è possibile assumersi la responsabilità di eventi come la morte inaspettata di un figlio oppure di una propria malattia grave? Le persone mi chiedono questa cosa mi è semplicemente capitata, che scelta avevo? C'è una storia che secondo me distilla un messaggio straordinario sul significato della vita e sulla capacità di scelta dell'essere umano. Viktor Frankl, uno psichiatra e neurologo austriaco, fu catturato dai tedeschi il 25 settembre del 42, quando aveva 40 anni, assieme a sua moglie e ai suoi genitori. Fu deportato in vari campi di concentramento, inclusi Auschwitz e Dachau, fino al 1945. La vita dei prigionieri nei campi di concentramento aveva poco valore e le condizioni fisiche e mentali erano durissime. Parte dei prigionieri veniva mandata alle camera gas subito dopo la selezione iniziale e per chi non veniva mandato alle camera gas c'era una vera e propria deumanizzazione. I prigionieri erano impegnati in lavori manuali per 12 ore al giorno e in inverno a temperature sotto lo zero, senza avere vestiti adatti e tenuti in un estremo stato di malnutrizione. Erano minacciati di morte ogni giorno, ogni momento ed erano tenuti all'oscuro del destino dei loro cari. Il tasso di sopravvivenza era bassissimo, solo uno su 28 sopravvisse. Infatti i genitori, il fratello e la moglie incinta di Victor persero tutti la vita. Victor iniziò a osservare coloro che riuscivano a sopravvivere e a cercare di comprendere cosa permetteva a queste persone di trovare una speranza. Elaborò una filosofia della vita e dell'essere umano in cui la spinta verso un senso di significato è la motivazione principale dell'attività umana. Frankl inoltre fu particolarmente determinato a non permettere ai nazisti di determinare la sua esperienza interiore e fece una distinzione tra la libertà fisica e quella psicologica. Egli aveva perso la libertà fisica, ma la sua massima libertà era quella di scegliere come rispondere all'etrocità che soffriva. Victor Frankl fece un'affermazione molto potente e gli disse tra stimolo e risposta c'è la nostra libertà di scelta. Tutti i vecchi modelli comportamentali legavano sempre assieme stimolo e risposta come un processo automatico, ma Frankl propose che questi due aspetti potessero essere separati. Allenarsi a saper premere un pulsante di pausa e quindi evitare di lasciarsi andare a reazioni automatiche basate sulla paura e scegliere una risposta creativa è la base di ogni percorso di trasformazione personale. La pratica delle quattro S presentata nel mio libro Il potere di cambiare è lo strumento per questa trasformazione.